M. Van de Broek è arrivata alla sconfitta con l'Italia. In Italia è il bilancio di questo mondiale per il Belgio. L'Italia è vero di vincere, erano il migliore team di oggi. L'Italia è vero, erano i blocchi, erano i due settori di controllo dell'Italia. L'Italia è vero, 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 l'Italia è vero. La squadra è vero, l'Italia è vero, l'Italia è vero, l'Italia è vero, l'Italia è vero. L'Italia è vero, l'Italia è vero, l'Italia è vero. C'è da affrontare un weekend di gare. L'Italia è vero, l'Italia è vero, l'Italia è vero, l'Italia è vero. L'Italia è vero, la seconda è vero. L'Italia è vero, l'Italia è vero in semifinalis per la Europa. L'Italia è vero, l'Italia è vero, la seconda è vero per la Euroleague in Varna, un anno aRI. L'Italia è vero. Quest'è vero e l'Italia è vero. L'Italia è vero e si prepara molto bene. L'Italia è vero. molto intenso, una vera e propria battaglia in quanto la Germania è comunque una squadra molto forte, ci conosce molto bene, abbiamo già avuto modo di incontrarci agli Open, ai campionati Open premondiali, sarà una dura lotta, è davvero una squadra molto bilanciata, quindi lotteremo comunque fino alla fine.